Vediamo dunque questo passo tratto dal primo libro della Repubblica di Platone, nel quale Tresimaco esprime la propria opinione sul criterio di giustizia. Secondo Tresimaco il giusto è l'utile di chi comanda, questa è l'opinione che poi verrà confutata successivamente da Socrate. Leggiamo dunque il passo. Ticetai degetus nomus hecaste hearche pros to haute su inferon, demokratia men democraticus, tyrannis de tyrannicus, cai hai allai hutos. Tsemenai dee apefenan tutto dicaion tois argomenois einai, to sfisi su inferon, cai ton tutu ecbaenonta colazzusin hos paranomuntate cae adicunta. Tut un estin obeltiste, ho leggo, en hapasais tais polesin tauton einai dicaion. To tes cazestecuyas arches su inferon. Hau te dee pu cratei, hoste sumbainei to orzos logizomeno, pantacu einei to autodicaion. To tucreitonos su inferon. Vediamo ora la traduzione. Io dico, femì ego, infatti gar, che il giusto, to dicaion, non è uc einai, allo ti è, non è altra cosa che, to tucreitonos su inferon, che l'utile, to su inferon, tucreitonos. Di chi comanda? Tucreitonos è il genitivo del comparativo creiton-creiton, il comparativo di agathos, buono. Creiton-creiton quindi vuol dire migliore nella prospettiva del potere. Creiton dal tema kret-krat, da cui abbiamo anche kratos, che vuol dire la forza, il potere, il comando, il dominio. Ovviamente, to su inferon è il participio presente e sostantivato di su inferon. Bene, procediamo. Tizetai deghe tus nomus hecaste he arche, prosto haute su inferon. Dice, ciascuna forma di potere hecaste he arche, tizetai, dispone, stabilisce, istituisce, ghe, per l'appunto, tus nomus, le leggi, prosto haute su inferon, in vista di ciò che è utile a lei stessa. Attenzione a questo haute, che è il dativo del pronome riflessivo. Si riconosce rispetto ad autos, pronome determinativo, perché ha lo spirito aspro. Dice, democratia, la democrazia, men democraticus, sottinteso, tizetai tus nomus. Quindi la democrazia sta passando in rassegna adesso alle varie forme di arche, alle varie forme di potere che istituisce appunto le leggi. La democrazia, sottinteso, istituisce leggi democratiche, democraticus, accusativo maschile plurale, perché è riferito a tus nomus. Tyrannis de tyrannicus, la tyrannide, sottinteso, istituisce leggi tyranniche, cai ai hallai, sottinteso archai, e le altre forme di potere, forme di governo, sottinteso, istituiscono leggi hutos. In questo modo, similmente, con questo stesso criterio, hutos ovviamente è l'avverbio. Procediamo, ora il discorso si fa un pochino più complicato. Tsemenai dè, a peffenan tuto dicaion tois arcomenois einai, tos fisisun feron, cai ton tutu ec bainonta, colazzusin hos paranumuntate cai adicunta. Il soggetto ancora sono le archai, le forme di potere istituite. Tsemenai dè, tsemenai dal verbo tizemi è participio auristo di diatesi media, è medio, no? Quindi sta a indicare un'azione che si compie a vantaggio del soggetto. Noi lo traduciamo come se fosse di forma di diatesi attiva. Istituendo, i soggetti appunto sono le archai, le forme di governo istituite, stabilendo, sottinteso, le leggi, a peffenan dimostrano tuto dicaion einai, che questo è giusto, tois arcomenois, questo invece è un participio presente sostantivato di diatesi passiva, per coloro che sono comandati, quindi per i sudditi o per i cittadini, per coloro comunque che sono governati. Dimostrano che questo è giusto per coloro che sono governati. To sfisi su inferon, cioè ciò che è utile a loro stesse. Attenzione, questo to sun feron è ancora participio sostantivato, in questo caso epesegetico, cioè serve per spiegare tutto dicaion. Questo è giusto, noi ci mettiamo un cioè per indicare appunto la valenza epesegetica. Cioè, ciò che è giusto sfisi. Attenzione, questo è un pronome riflessivo, cioè è riferito al soggetto della frase, al archai. Per coloro che sono governati è giusto ciò che è utile per il potere stabilito, per loro, cioè per le archai sfisi, per il potere stabilito. Kai ton tutu ek bainonta e kolazzusin, puniscono. Ton ek bainonta, participio sostantivato, colui che esce fuori da, letteralmente, colui che esce fuori da questo, cioè colui che esce fuori dal giusto, da ciò quel che è il concetto di giusto per il potere stabilito. E puniscono. Quindi colui che viola questo, colui che esce fuori da questo, ton tutu ek bainonta, come se andasse contro la legge, os paranomunta, paranomeo, para più nomos, io vado contro la legge, te caia di punta e persona che compie, commette un reato, che commette torto, sarebbe a di punta, a di cheo. Si noti il costrutto particolare di os più participio, che può avere essenzialmente due valori. Valore comparativo ipotetico, noi lo traduciamo come se, os paranomunta, come se andasse contro la legge, concordato all'accusativo maschile singolare con ton ek bainonta. Dicevo, quindi, può avere valore di comparativo ipotetico, oppure causale soggettivo, poiché va contro la legge, te caia di punta e commette un reato. Questo valore causale soggettivo significa che la causale non è frutto del pensiero di chi parlo scrive, ma l'autore propone un punto di vista di qualcun altro. In questo caso il punto di vista è il punto di vista delle leggi e non quello di Platone o quello di Trasimaco che sta parlando. In questi casi noi possiamo tradurre questo tipo di causale, ripeto, causale soggettiva, con una locuzione del tipo poiché ritiene che, poiché pensano che. Quindi, i governi istituiti puniscono colui che esce fuori da questo ordine di valori, ton ek bainonta tuto, poiché ritengono che commetta tort, vada contro la legge e commetta un reato. ci avviciniamo dunque alla conclusione del passo. Questo dunque è, mio caro, ciò che io dico in tutte quante le città sia lo stesso criterio di giustizia, cioè, tos in feron, l'utile della forma di governo istituita tesca, testa e quias, arches. Allora, osserviamo alcune cose in questa proposizione. o beltiste, questa è una, così, locuzione idiomatica della lingua parlata. Beltiste è il superlativo da beltistos, uno dei superlativi di Agathos, è una locuzione appunto della lingua familiare, con cui ci si rivolge quasi scherzosamente, o persona ottima, vorrebbe dire letteralmente, con cui ci si rivolge confidenzialmente a una persona con cui si è in familiarità. Ho, pronome relativo, ciò che io dico, en ha pasais taispolesin, appunto non fa difficoltà, polesin, è un dativo plurale di polispoleos, tauton, ecco, attenzione, tauton, questa è crasi, la crasi si riconosce dalla coronide, questa specie di spirito dolce, che in realtà non è uno spirito, perché non è in una vocale iniziale di parola, ma è all'interno di parola, e vuol dire che è intervenuta la fusione fra una parola che finisce per vocale e la parola successiva che inizia a sua volta per vocale o per ditongo, sarebbe to, auton, da notare che questa è una forma particolare, tauton, questo è neutro, dovrebbe essere tautò, in realtà è una forma del dialetto attico particolare, per cui accanto a tautò troviamo anche tauton, con questo ni che in realtà non ha valendo, non ha motivazione di natura morfologica, ma probabilmente è di natura fonetica, e eufonico. dice tauton, to, autò, quindi to, auton, è il pronome determinativo, autos, autè, autò, preceduto dall'articolo, quindi in posizione attributiva, che come noi sappiamo, ha il valore del latino idem e adem idem, cioè si traduce con lo stesso, per indicare uguaglianza, quindi lo stesso principio di giustizia, tauton dicaion, la stessa cosa giusta, letteralmente, quindi questo è ciò che io dico, sia in tutte quante le città, il medesimo criterio di giustizia, poi abbiamo ancora questo participio neutro, sostantivato con valore pesegetico, cioè to su inferno, l'utile del potere istituito, cazestequias, è il participio perfetto, genitivo singolare femminile, del verbo cazistemi. Bene, concludiamo, Questa in qualche modo domina, haute è riferito ad archè, cioè il potere istituito, il potere istituito in qualche modo, pu, avverbio indefinito, kratei, domina, hoste, cosicché, capita che, simbainei, to orzos logizomeno, per colui che riflette in maniera corretta, to logizomeno, participio sostantivato, orzos, avverbio, è in posizione attributiva, cioè fra l'articolo e il participio, quindi va riferito al participio, cosicché, succede, per colui che riflette in maniera corretta, che dappertutto, pantacù, einei, to autodicaion, visia, einei, con valore di predicato verbale, infinito che dipende da simbainei, visia, to autodicaion, lo stesso criterio di giustizia, notare come questo to autò, con autò in posizione attributiva, pregiunto dall'articolo, sia la stessa cosa, praticamente, di tauton, del tauton precedente, qua però era pronominale, qua invece abbiamo autò, che è fra l'articolo e l'aggettivo sostantivato, quindi, lo stesso principio di giustizia, to tu crei tono su infero, un'espressione che avevamo trovato anche all'inizio, ancora qua, in posizione epesegetica, in funzione epesegetica, cioè l'utile di chi è più forte, l'utile di chi comanda. Con questo abbiamo concluso la lettura di questo bel passo, tratto dal primo libro della Repubblica di Platone, spero che sia tutto chiaro, sia nella traduzione, che anche nelle spiegazioni grammaticali, così le spiegazioni generali che abbiamo dato, ci risentiamo eventualmente per una prossima volta, ciao! Grazie a tutti!